Il romanzo familiare, in queste settimane mi avete visto sempre come quello che non gli fate fa niente, che studia poco, quindi oggi vorrei sorprendervi. Cendiamo l'acqua della palla. E mo' uova. No, 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 facci l'era. Voglio preparare una cennetta romantica per la mia famiglia. Mo' te voglio. Non so quanta ne devo tagliare, non so come la devo tagliare. Poi, metto sale, quanto sale metto? Quanto olio devo mettere? Ho tirato un po' sulle piastrelle. E poi devo sbattere le uova. Penso, insomma è stato capace la pasta torta. Sbagliato. Ok, questa tutta a tempo. C'è qualcosa nell'acqua che non mi rinvince. Che colorito brutto sta pancetta. Quando fa così l'acqua bolle? Boh, vabbè aspetto un altro po'. Parechiamo. Uno o due. Ci metto tutte su. C'è un'azzo alzata. Sì, il sale è suonissimo. No, la cottura, quanto deve, cosa basta. Nove minuti. Non messa lì più apposta perché già sapevo che facevo così. E' normale che non c'è male. Mi dà sapore. L'assaggio. No. Sai che non va bene. Fa proprio schifo. Già. Eh, senti, io ho provato a fare una sorpresa a mamma e papà che cucinavo io. Però è venuta male. Che posso fare? Che ti viene in mente? Sì, sì, va bene. Va bene, va bene. Ciao, grazie, arrivederci.